Abbiamo appena pregato la Vergine Maria. Questa settimana la città che ne porta il nome, Mariupol, è diventata una città martire della guerra straziante che sta devastando l'Ucraina. Davanti alla barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C'è solo da cessare l'inaccitabile aggressione armata prima che riduca le città a cimiteri. Unisco la mia voce a quella della gente comune che implora la fine della guerra. In nome di Dio si ascolti il grido di chi soffre e si ponga fine ai bombardamenti e agli attacchi. Si punti veramente e decisamente sul negoziato e i corridori umanitari siano effettivi e sicuri. In nome di Dio vi chiedo fermate questo massacro. Vorrei... Vorrei... Grazie. 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 Grazie.